Per Cilento Channel da Cannalonga, Daniele Romualdi e Antonio Amato, siamo con la signora Luigina di Cannalonga che rappresenta la memoria storica per quando riguarda i vecchi mestieri di un tempo, soprattutto per quando riguarda la filatura della lana e non solo, la filatura è anche la preparazione poi di calze e altro materiale prodotto appunto con la lana, ma anche per quando riguarda lei una risorsa preziosa, sempre e comunque quando si tratta di preparare qualcosa che riguardano i vecchi mestieri e la tradizione. Ci spiegate un po' il procedimento che stamattina facevate per quando riguarda la filatura della lana? Io ho già fatto la tradizione dei caosettini, come si facevano allora, perché non era che tu potevi comprare, noi facciamo tutto con la lana di pecora, prima la lavavamo, la asciugavamo e poi vuol dire che allargavamo, la filavamo e poi facciamo i caosettini, perché questi si usavano prima, non è che non potevi comprare, uno andava fuori in campagna, allora facciamo le due maniere, prima facciamo i caosettini per le scarpe, poi i caosettini per le scarpe, poi ne prendevano un fastidio, tanto una cosa delicata, la filavamo fino, 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 fino e facciamo i caosettini, poi la sera quando venivano a lavorare che si cambiavano e si mettivano e usciano. E il procedimento quale è stato? Cosa avete fatto stamattina? Io ho già fatto un procedimento, ho già cominciato uno caosettino, questo è. Dalla filatura? Dalla filatura della lana, un caosettino e poi ho già fatto vedere come si torcia, per il doppio filo.